la mia casa c'è mi sa che io e la mia famiglia abitiamo in una grande casa poco distante dal centro ma immersa nel verde è luminosa spaziosa e nelle vicinanze c'è un bellissimo parco dove poter passeggiare la mia casa è composta da due piani e ha un grande giardino al piano terra c'è l'ingresso la cucina la sala da pranzo e un bagno al primo piano invece ci sono tre camere da letto e due bagni in una camera da letto ci sono i miei genitori la loro stanza è la più grande di tutta la casa io condivido la stanza con mia sorella mentre mio fratello maggiore ha una stanza più grande per tutta per sé la mia stanza è davvero bellissima ha un grande balcone che ha faccia sul giardino e se si guarda bene all'orizzonte durante le giornate più serene è possibile anche vedere il mare adoro la mia casa la mia casa è la mia casa è la mia famiglia la mia casa è la mia casa è la mia casa è la mia casa. nel verde, c'ha plulli am zwaneshi. Distante i giri arac lontano, sinonime bia, da am c'ham trabashi che gizliat lontano c'ket kuatta che gizliat distante c'kamu gare nabinac. E luminosa, spazioza e nelle vicinanze c'è un bellissimo parco dove poter passeggiare. Tzalia natelia luminoso, luminosa, shirat gamo i giena benam termini saxli saxceriz troz. Anu, isa t'i saxli sada c'bevri shukish ediz, bevri panjara ux. Spazioza, spazio nishnav sivrtses, shesabam isa c'pazioza sivrtsit savse, anu, didivrtseli saxliya e ne levičinanze da ikve ahloz aris ulamazesib argi, sqeri. Sada c'ha c'ha c'lebelia seirnoba. La mia casa e komposta da due piani e a un grande giardino. c'e mi saxli shetgeba orisar t'uliskan anu, da augusti di pari. Komposta, nishnav sshetgeba. Esi t'uashe gusliya kamo, gano, ti se t'uashi rogo riziaris, ma kletet ogiachis aqzerah. La mia famiglia e komposta da, da mere c'ha motulit, viskan sshetgeba, c'e ni ogiachii. Mok le c'itua komposta, sshetgeba. Al pianotera c'e l'ingresso, la cucina, la sala da pranzo e un bagno. Pianotera, c'e zahhiand, c'uenebura t'p'irvel sartuulz. It alie lebi noli sartuuli t'an itzqabeni atulazta, shesabami s'ad, c'ueneb irveli sartuuli, it alie lebi stuiz noli sartuuliya. Anu, dabla b'irvel sartuulz e, aris, shemo sasuleli, ingresso, samzareulo, sasadilo, taxi, anu, la sala da pranzo ta e irti abazana. Al primo piano, invece, ci sono tre kamere daletto, e due banni. Pirvel sartuulz e, ki, anu, c'uenebura t'meore sartuulz e, aris, sami sasadzinebeli, da ori abazana. In una camera daletto, ci sono i miei genitori. La loro stanza e la piu grande di tutta la casa. Er, terza dzinebelotaxhi, ariyan c'emim soblebi. Matiotaxi, velaz e didia sakshi. Io, condivido la stanza con mia sorella. Mentre, mio fratello maggiore, a una stanza piu grande, tutta per se. Me, viziarib, otaxs, c'ems, dastan. Amadro, lat, tum, ca, c'ems, uprost, ma, s'akus, misi otaxhi. Condivideri, otax, n howe, da bene all'orizzonte durante le giornate più serene e possibile anche vedere il mare, attoro la mia casa. Max Diti Aiwani, Romelic pirdapir squares uguorepsi, a faccia, nischnaz, zustat, mis masu uguorepsi, asetko ad pirdapirariz, da tu gaihe daud horizonte, aargit ghebiskan malo bashi, 6 levelia asev e zghvistana. Vgizdebi, c'èm saxl zè, adoro, nischnaz, vgizdebi, vagmerdib, c'èm saxl zè. Aqlagi gada uidiet, me orenaz il zè, da usuad, kietuho, da un'achot, rammdennac, c'orrat, ubasu ghebt. Kietuho, nômeri, p'irvelli. Dove si trova la gaza? Sait, m'de barehov, saxli. Rammdennimec, amigaukt. La gaza e poco distante dal centro, ma e imersa nel verde. Saxli, moshorebulia tzotati cendrs, ma gram chapluliam tzoaneshi. Rassab, keroveli, c'è, gizliat, s'hoanayirat, kepasuhat, hamki, itkhuizduiz, ubralo, čevecala, t'ekxtan, maksimalura, t'haqlo, pasuhi, gamaeca. Da quanti piani e komposta la gaza? Da quanti piani e komposta la gaza? Rammdenni, sartuliskan, shet, gieba, saxli. Rammdenni, mec, amigaukt, c'ha, basuhat. La gaza e komposta da duepiani. Šem degi, gitroa. Gitroa nomeri, mesame. Con qui condivide il ragazzo la sua stanza? Con qui condivide il ragazzo la sua stanza? Viz tanertat vis uziarebs otax esbidži. Lui condivide il ragazzo la sua sorella. Iz taviz tastan i gobz, i naciileb sotax. AĞlaki, gada uite, t'ekxtis mesame naciilse. Romeliak, am t'ekxti, kolaz eb nishnolovani aĞhali sītqebi. Distante, shores, immerso, immersa, ciapluli, composta, shedgeba, sala da pranzo, sasadilo otahi, ingresso, shemusasuleli, camera da letto, sazinebeli, condividere, kanazileba, kaziareba, Fratello maggiore, u prosizma, balcone, aivani, adorare, kanazimeer, teba. Kanmichilo t'ekxti, la kamera da letto di Luisa. Luisa sazinebeli otaxi. Ta uic gopitali ura t'ekxti skitqoazta, shemdeku kua iertat kanmichilo t'i togoli, zinatateba. Mi chiamo Luisa e ho sedici anni. Oggi vorrei parlarvi della mia camera. La mia camera è davvero molto bella e spaziosa. A destra ci sono il mio letto e un armadio, che è sempre molto pieno dei miei vestiti. Vicino al letto si trova anche un comò, dove tengo i miei libri, che spesso leggo ogni sera prima di dormire. Davanti al mio letto si trova la mia televisione e una poltrona su un tappeto. Spesso mi siedo e guardo la televisione per ore. La mia stanza ha anche una scrivania, dove si trova un computer che uso quando devo studiare. Quando faccio i miei compiti, scrivo sul tavolo che si trova al centro della mia camera. Amo la mia camera, perché qui posso studiare e divertirmi molto ogni giorno. La mia camera è la mia camera. la mia camera è davvero molto bella e spaziosa. La mia camera è davvero spaziosa, la mia camera è davvero spaziosa e il mio letto è un armadio che è sempre molto pieno di miei vestiti. Margini, la mia camera è davvero margini, la mia camera è davvero marggini. Am cem trova scianu margini varis cemis sazzoli letto e un armadio da carada. Rumelic ovel twist sausea cemis tan sazmlit. Pieno si truanišnavs sause. Vicino al letto si trova anche un komo dove tengo i miei libri che spesso lego ogni sera prima di dormire. C'èm sàcoltan ahlos, anu vicino al letto, si trova, da ima sorete es, ori situaierta, ma è gombrebo, nishnoz, mdibare obs, si trova. C'èm sàcoltan ahlos, mdibare obs, anu vicino, c'èm sàcoltan ahlos, mdibare obs, dove tengo i miei libri. C'èm sàcoltan ahlos, mdibare obs, che spesso lego ogni sera prima di dormire. Rumelic ovel twist sazglit, anu davanti al mio letto, si trova la mia televisione e una poltrona su un tappeto. C'èm sàcoltan ahlos, anu davanti al mio letto, cuore da me accetano davanti, rumelic ovel twist ikneba a preposizione, anu adzi indibuultan ertat. Davanti al mio letto, si trova la mia televisione, anu acaz meurti ba sidrova, anun dibare obs, spesso mi siedo e guardo la televisione per ore la mia stanza ha anche una scrivania dove si trova un computer che uso quando devo studiare quando faccio i miei compiti scrivo sul tavolo che si trova al centro della mia camera rotez a tato a lebebswagetep neov 0-gola persmagidazero mielec chemiotakhi centrosim dè barres A mola mia camera per giegui posu studiare divertirmi molto ogni giorno. Mi gara che mi otacchi radgana che mi c'è lìa vissza olo da kaverto, hoveldriss, hoveldriss. Quanti anni ha Luisa? Ramdeniz lìsariz Luisa. Ramdeniz ammigat. Luisa a sediciani. Tec smetiz lìsà. Dove fa i kompiti Luisa? Sada ketebs tawa le biebs Luisa. Luisa fa i kompiti nella sua camera. Luisa tawa le biebs ha ketebs miso taxxi. A Luisa piace la sua camera? A Luisa piace la sua camera? Luisa è molto smetiz. Si, Luisa piace la sua camera. La sua camera è la sua camera. La sua camera è la sua camera. La sua camera è la sua camera. destra margona, sinistra margona, davanti pirispir anucin, poltrona savarcieli, tappeto xalica per ore sato bit. Scrivania sa cerimagita. Grazie per la visione!